Nutrire il pianeta è senza dubbio importante, ma è ancora più importante nutrire il pianeta in modo sostenibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire essere attenti al tema della sostenibilità sempre, da un punto di vista economico, sociale, ambientale, non solo per noi, ma anche per le generazioni future. Su questo il dibattito che riguarda la produzione dell'olio di palma è veramente rilevante. Infatti è documentato che la produzione, le grandi piantagioni di olio di palma nel Borneo stanno mettendo in pericolo la sopravvivenza per esempio degli oranghi, perché non trovano più gli oranghi il proprio ecosistema e quindi proprio anche non trovano da mangiare, non trovano l'ambiente dove sopravvivere. Però non è vero che per produrre l'olio di palma bisogna necessariamente distruggere questo ecosistema. L'importante è come viene fatto, è importante produrre l'olio di palma evitando la deforestazione e anche aumentando la possibilità di creare ecosistemi vicino. Come è documentato per esempio che in Guatemala esistono tante piantagioni di olio di palma dove vengono violati i diritti umani, viene usato il lavoro minorile, ma anche questo non è che sempre la produzione di olio di palma debba essere fatta in questo modo. Quindi il vero punto è sempre domandarsi come vengono fatte queste produzioni e il ruolo dei governi, il ruolo della società civile, dalle università, alle ONG, il ruolo delle aziende è fondamentale, che le aziende possono produrre in modo, con un'attenzione alla sostenibilità, in modo sostenibile, oppure no. Quindi non bisogna necessariamente dire che siccome ci sono esperienze dove l'olio di palma ha avuto degli effetti negativi, allora non consumiamo, non produciamo più olio di palma e smettiamo anche di produrre e di consumare beni che usano l'olio di palma, che sarebbe d'altronde impossibile visto che l'utilizzo è diffuso. Ma il punto centrale è come produrre l'olio di palma in modo sostenibile. Questa è una domanda che effettivamente anche all'Expo si vede che si cerca di trovare delle risposte perché la parola sostenibilità è una parola che si trova in tantissimi eventi. Grazie a tutti.